Ciao buongiorno a tutti quest'oggi velocissima recensione di questa torcia con fascia da testa regolabile naturalmente degli gadgets semplicissima funziona con tre batterie mini stilo più precisamente le AAA e ha due tipi di luce molto chiara un led frontale luce bassa e a intermittenza veloce in più premendo l'altro pulsante vi ha la possibilità di accendere queste due piccole luci led rosse che anche loro funzionano in intermittenza o volendo funzionare insieme alla lampada perché le luci led rosse perché a volte magari quando uno si sveglia nella tenda e deve uscire qualcuno adopera delle torce che illuminano al giorno e quindi danno praticamente fastidio agli altri ospiti del campeggio mentre dormono o altri motivi quindi invece con queste due luci rosse è possibile vedere lo stesso ma senza dare troppo fastidio in giro quindi direi molto utile semplicissima prezzo bassissimo di vendita di questa lampadina di questa torcia frontale molto molto leggera quindi direi nessun problema per l'acquisto di questa lampada ciao arrivederci